Meno 5 giorni alla donata triveneta degli alpini qui a Belluno e qui nella sede della sezione c'è il cuore logistico dell'intero evento. E allora facciamoci raccontare come sta procedendo l'organizzazione di questo evento che culminerà domenica con l'osfilamento in centro a Belluno direttamente dal presidente della sezione, Lino De Pra. Presidente, allora a che punto siamo oggi? Siamo abbastanza a buon punto, io penso che ormai in questi giorni si concluderà quelle che sono le nostre montagne, le nostre strutture per cui diremo che a quel punto là siamo pronti a partire. Ecco, raccontiamo un po' com'è la sezione di Belluno, quanti siete iscritti, le vostre attività? La sezione alpini di Belluno nasce il 19 giugno 1921 e oggi la sezione ha 6050 i soci iscritti di cui 620 sono i volontari di protezione civile. È una sezione molto attiva, molto disponibile, abbiamo dei giovani che ci stanno dando una grossa mano con l'attività di protezione civile e anche negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli iscrizioni perché proprio rappresentano quello che è lo spirito nostro di alpini e quindi condividono i nostri valori. Voi in questo momento, logisticamente parlando, siete già operativi in Piazza Piloni? Sì, in Piazza Piloni è stata allestita la struttura della ristorazione collettiva. Invece avete anche già aperto sabato una mostra molto importante perché questo vostro evento è legato molto al Vaillant. La mostra che è stata fatta a Palazzo Bembo l'abbiamo proprio voluta, proprio per completare quello che era il programma che comprende i 60 anni dell'anniversario della disgrazia del Vaillant. Volevamo celebrare, ricordare nella conoscenza sia i nostri soccorritori che possono prendere atto di certe immagini che magari loro non hanno mai più visto nel tempo, ma soprattutto la conoscenza per i nostri ragazzi e di questo abbiamo avuto grosse soddisfazioni perché con la conclusione delle scuole moltissime classi si sono presentate per vedere la mostra. Due anni di preparazione mi pare. Certo, due anni perché noi eravamo pronti per il centenario della sezione del 2021, poi c'è stato quello che c'è stato e quindi abbiamo spostato l'appuntamento al 2023. Ci stiamo lavorando da tanto tempo, pensiamo di aver fatto un programma che soddisfi quello che è tutti gli alpini che arriveranno, tutti gli ospiti e quindi ci aspettiamo una grossa partecipazione e che sia una festa per tutti.